Buongiorno a tutti, sono la professoressa Silvia Cecchini, docente di matematica. Benvenuti in questo spazio dedicato all'Istituto Professionale Servizi Commerciali Web Community dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo III Tecnico Professionale di Fano. In questo periodo storico, fortemente digitalizzato, il mondo del lavoro è sempre alla ricerca di nuove figure professionali che prima ovviamente non esistevano. Proprio per questo sono nati i nuovi servizi commerciali che investono fortemente sulla formazione dei professionisti del web fornendo conoscenze e competenze di ultimissima generazione. Il diplomato nell'indirizzo Servizi Commerciali Web Community gestisce la comunicazione aziendale sui social network quindi cura tutto quello che riguarda la presenza in rete del marchio aziendale. Un aspetto fondamentale di questo lavoro è quindi la comunicazione ovvero l'importanza che assume il dialogo diretto con il pubblico a cui l'azienda vuole riferirsi. Il manager per la community quindi dovrà interagire direttamente con i follower attraverso i social dando vita a delle vere e proprie community. Tutto questo è reso possibile dall'apprendimento di nuove tecnologie informatiche e di due lingue straniere. Il progetto formativo si può riassumere in generale in tre parole chiave web marketing, social network e attività laboratoriali. Il web marketing è un concetto attualissimo perché siamo tutti fortemente influenzati dai contenuti che troviamo tutti i giorni sul web. Di conseguenza grazie al nostro corso sarete in grado di gestire marchi, prodotti e servizi attraverso internet con lo scopo di farsi conoscere ma anche di generare profitto. I social media invece stanno riscrivendo il modo in cui le persone si connettono e comunicano tra di loro. Sappiamo benissimo che ogni social network ha una caratteristica particolare che lo rende unico per determinate azioni di marketing per il raggiungimento poi di obiettivi specifici. Oggi i canali social costituiscono un indispensabile spazio virtuale per le aziende che rappresentano un'ottima strategia per aumentare la visibilità, per raggiungere un vasto pubblico e allargare l'audience. Di conseguenza si andrà ad amplificare la comunicazione attraverso gli strumenti di condivisione che sono disponibili sui social network. Inoltre abbiamo tantissime attività laboratoriali che sono attività concrete che permettono allo studente di sperimentare operativamente. Quindi non si apprende solamente la parte più teorica ma si cerca proprio di andare a mettere mano e di fare. Tutto questo avviene grazie ad un progetto formativo personalizzato. Questo significa che ogni alunno avrà la possibilità di avere un docente a disposizione, un docente tutor a cui potrà rivolgersi per qualsiasi problema, per qualsiasi richiesta. Inoltre sarà possibile inserirsi nel mondo aziendale già durante il percorso scolastico attraverso il PCTO, conosciuto anche come alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda la specificità formativa della scuola, il percorso di studi è basato sull'aggiornamento, sull'innovazione, con l'obiettivo di raggiungere competenze digitali direttamente spendibili nel mondo del lavoro. L'offerta formativa si arricchisce anche con altri progetti, progetti come il Learning by Doing e l'educazione finanziaria, che sono stati fatti in collaborazione con Camera di Commercio e con Confindustria. Inoltre questi progetti prevedono degli incontri con degli esperti del settore per ampliare gli orizzonti dello studente per svilupparne lo spirito imprenditoriale, così da approfondire anche lo studio delle TIC, ovvero le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Al termine del quinquennio, quindi, lo studente sarà in grado di curare e di promuovere la visibilità online delle aziende attraverso l'e-commerce e l'implementazione di siti web, collaborare alla realizzazione di campagne di web marketing e di sviluppare e gestire la presenza online di imprese e professionisti, oltre alla realizzazione dei processi amministrativo contabili. Relativamente agli sbocchi professionali, invece, sarà possibile avviare collaborazioni con aziende, mettere in pratica attività di promozione delle vendite e dell'immagine del marchio aziendale, oltre ad avere la possibilità di iscriversi a studi post-diploma. Per quello che riguarda, invece, le facoltà universitarie, sarà possibile accedere a qualsiasi corso di laurea, in particolare gli indirizzi economici aziendali e di marketing. Fai questa scelta se vuoi diventare manager dei social.